Da otto anni Pergola decide di donare un'onorificenza ad un concittadino che si è particolarmente distinto con il proprio sapere o la propria opera nel dar lustro alla città dei bronzi dorati. Per questa edizione il pergolese dell'anno è Francesco Tonelli, produttore vitivinicolo di generazioni, padre indiscusso della doc Pergola Rosso, che si è battuto fin dagli anni 70 con tenacia e caparbietà perché questo vitigno trovasse la giusta valorizzazione nel vasto panorama enologico italiano ed internazionale, portando così il nome della città di Pergola in giro per mezzo mondo, come recita anche la menzione ufficiale pronunciata dal presidente del comitato. Va riconosciuto il merito di aver salvato degli anni 80 il vitigno della Vernaccia, che era in via di estinzione, di averne affinato la vinificazione fino a raggiungere la denominazione di origine controllata col nome di Pergola Doc e di avere condotto quale presidente il consorzio di tutela Vini Doc di Pergola. Questa è la motivazione ufficiale che è stata riconosciuta a Francesco Tonelli. Produttore, viticoltore e soprattutto grande appassionato di queste cose. Nel mio DNA c'è praticamente la vite, c'è il vino e diventa quasi un'ossessione. Quando mi segnalano una vite io devo andare, per forza devo andare a vedere perché dico magari la vite muore, magari mi è capitato una volta che un colpo di vento in un paese di notte ha rotto la vite, fortunatamente non era una vite conosciuta, però succede anche questo. Chi ha tempo non aspetti tempo, questo è il mio modo di vivere la viticoltura. Città di Pergola che da tempo ha scelto la strada delle eccellenze territoriali come viatico promozionale della propria realtà che tanto offre al viaggiatore e al turista più esigente. Pergola è città di qualità, città di qualità nel patrimonio artistico, culturale, architettonico del centro storico della città ma è anche qualità nei suoi prodotti. Quindi è innegabile che l'amministrazione comunale debba necessariamente investire in questa qualità e nella qualità dei suoi prodotti.